Farà anche ridere, visto che sono passati già quasi due anni. Ma nonostante ciò sono ancora innamorata cotta di Ale. Elena! Elena, che cosa ti succede? No, no, sono ancora queste maledette emicragne. Ogni volta che mi trovo in mezzo alla folla o se c'è un forte rumore improvviso mi fanno impazzire. Non ce la faccio più, mi scoppia la testa. Aiutami, andiamo via. Si torna a casa, da questa parte è una scorciatoia per arrivare prima alla macchina. Questa è quella che mi succede ogni volta che non prendo le mie pillole. Ma scusa, non dovresti prenderle tutti i giorni? Sì, ma mi fanno diventare stupida, mi inibiscono, capisci? Io ormai le ho... Ehi, bello! Andiamoci un po'. Bene, 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 e guarda chi c'è. Due bambine a passeggio nella mia strada. Comunque cosa state facendo, non sono affari nostri. Non abbiamo visto niente, quindi lasciateci andare. Te l'ha mai detto nessuno che questa parte della città è pericolosa. Vi prego, non fateci del male, vi state soltanto mettendo nei guai. Oh, grazie per l'avvertimento. Ma non siamo noi che ci troviamo nei guai, ma... Oh! Corri, Elena! Corri, scopo! Dove? Ok, adesso ti buco. Credo che sarà meglio andarcene via di qui. Grazie. 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 Grazie.